ciao giulia buongiorno amici buongiorno a tutti siamo al salone del camper penso che siamo i primi sono le sette e mezza del mattino ci siamo svegliati presto perché non volevamo beccare il marasma di gente all'ingresso adesso ci stiamo dirigendo verso l'ingresso ovest e vediamo un po la situazione com'è volevo precisare che mi ha buttato giù dal letto alle 6 colazione colazione via muoviti veloce perché qua non c'è tempo da perdere no anche perché l'ingresso è le nove e mezza dalle nove e mezza alle 18 e non volevo fare code chilometri abbiamo solo il sabato per girare e si è giusto che almeno lo sfruttiamo presto e guardiamo tutto eh si no vabbè dai non c'è praticamente nessuno siamo arrivati ieri sera verso le otto e mezza che era appunto venerdì perché oggi è sabato 10 primo giorno della fiera ieri era un pochino un po più vuoto poi dopo ovviamente continuavano e continuavano ad arrivare gente tra l'altro eravamo lì al camper a bersi un paio di birre mangiare due patatine così sono passati dei ragazzi così a salutarci si è rimasti lì praticamente a parlare fino a mezzanotte e poi dopo tra una roba e l'altra così siamo andati a letto all'una una io praticamente l'ho tirata giù dal letto alle 6 quindi l'ho fatta dormire cinque ore l'ho fatta dormire cinque ore eccoci qua entrati ragazzi adesso cercheremo di andare a caso vediamo che cosa c'è da vedere cerchiamo di vedere più cose possibili traffico di persone permettendo e ci facciamo un giro di tutti i padiglioni quali ingresso c'è anche la corsa di quad minimoto motocross non so poi magari sicuramente faranno qualcosa qua ci sono tutti i malibu integrali e semi integrali con le varie lunghezze le varie misure non mi soffermerei magari troppo sui camper andiamo a beccarci magari parte subito dai van così li facciamo subito fuori se li troviamo partiamo subito con questo challenger con matrimoniale dietro e tetto a soffietto che praticamente vi salta fuori un altro matrimoniale di net classica questo qua è un 6 e 36 su telaio light con la nuova cabina fiat ducato 2022 ovviamente sedili sempre girevoli qua troviamo un pensile unico con due però vani ovviamente tutta illuminazione a led rivestimento in ecopelle penso che sia quindi carino ci sta classici oscuranti e zanzariere incorporate vediamo qual discorso fuochi tutto discorso unico lavello sinceramente molto piccolo due fuochi piezo elettrico ai cassetti sono abbastanza capienti con il soft lock tre cassettoni per il discorso cucina frigoro visto dovrebbe essere un 84 litri compressore della tetford con il vano freezer beh questo è buono perché è bello chiuso ermetico c'è anche la guarnizione quindi ci sta molto generoso e poi dopo trovate sotto il classico armadio guardaroba per appendere appunto i vestiti gavone almeno da qua mi sembra abbastanza capiente hanno fatto anche il discorso del piano appunto in acciaio per essere un attimino un po più riparato come di un pulsante sicuramente appunto il letto matrimoniale è sollevabile quindi sicuramente recuperate spazio anche per quanto riguarda lo stivaggio del gavone pensili anche qua sia dalla parte sinistra che anche dalla parte destra colore dai ci sta bello se colore grigio ci sta a me personalmente non piace il laccato però vabbè quello va a gusti ci mancherebbe il grigio invece ci sta maniglia del bagno buona doccia generosa se ecco diciamo doccia generosa ovviamente su 636 avete più spazio il lavandino è molto risicato ragazzi c'è la finestra quindi bene ma non ce l'ho però il lavandino molto risicato dc normale tetford classico il bello che c'è l'antina che chiudete così e non c'è quella tendina rompiscatole quindi questa qua si va a chiudere lì e diciamo che viene tutto appunto il vano riparato impermeabile quindi questo buono peccato per il lavandino che veramente molto piccolo c'è la possibilità ovviamente di mettere fuori il tavolino così lo recuperate potete mangiare fuori qui ci sono dei vari ripiani qua sicuramente sarà la prolunga infatti per andare a tagliare cucinare fare è il v210 appunto ci sono tutti gli optional 72 690 e invece il prezzo del veicolo esposto è 78 perché appunto ha dentro un bel po di optional serbatoia maggiorato 90 litri motorizzazione 140 cavalli e tutto questo ambaradam qua andiamo a sbriciare anche qua nella mobilvetta qualche van che già lo vediamo qua nel grigio e nel colore un po più scuro questo qua è sempre un 636 come lunghezza e questo qua dovrebbe essere un 6 metri un Admiral K5.1 motorizzazione Fiat Ducato c'è la versione da 140 o da 180 cavalli che ovviamente 180 cavalli è un optional letto posteriore di net partiamo subito dal prezzo 69 290 il veicolo esposto facciamo l'asta facciamo l'armadietto c'è sia un vano qua sotto per le piccole cose se no invece avete due vani uno più piccolo e uno più grande qua sopra però sinceramente molto piccoli li ha fatti molto stretti infatti come potete vedere è bella l'illuminazione led però come spessore potevano secondo me stare un attimino di qua piccato per il discorso dello stivaggio anche su questo mobilvetta qua abbiamo tutto il rivestimento in ecopelle sempre zanzariere e oscuranti oblo panoramico sempre anche qua rivestimenti con tutte le luci led qua c'è lo skyview non c'è la cappelliera lavello c'è la scomparsa che mi salta fuori anche la prolunghina per tagliare col tagliere lavello qua sì però anche questi qua proprio sono veramente piccoli piccoli ci sta una pentola ragazzi fuochi adesso quando lo tiro fuori sarà sicuramente un due fuochi anche questo qua classici cassetti sotto la cucina sempre con chiusura soft lock armadietto sopra ecco questo l'ho fatto un attimino un po più capiente e vabbè ci sta il discorso della cucina non mi piace tanto effetto tipo radica laccato troppo troppo appariscente sempre frigo tetford anche qua con c'è la freezer separata 84 litri comodo letto dietro matrimoniale con gli inserti tutti copelle luci a led armadietto 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 anche la ci sta armadietto anche di quale due finestrelle e la finestra laterale quella un po più grande quindi questo è abbastanza finestrato gavone anche qua dietro abbastanza capiente con l'accesso ovviamente anche dall'abitacolo bagno allora finestra ci sta lavandino possiamo anche farlo andare e qua ovviamente c'è il discorso che giri con la doccia molto generosa perché ovviamente questo qua si chiude e la doccia salta fuori di buone dimensioni col suo miscelatore separato ci sta sempre questo discorso qua del lavandino almeno parere mio e poi dopo va a gusti va discorso personale però questo invece 6 metri 36 sempre mobile vetta è più o meno uguale all'altro solo che alzandosi praticamente il matrimoniale a recuperare il discorso del gavone i gavoni li fanno stracapienti quello qua c'è anche l'attacco per la doccia quindi buono e come prezzo per il veicolo esposto siamo 83 9 84 ragazzi come questo beh ma i prezzi lo sapevamo che ovviamente sono lievitati proprio senza un limite io voglio trovare i malibu perché voglio vedere in malibu però i van non i semi integrali vediamo la ricerca continua capito dove sono i malibu sono al padiglione 2 noi invece siamo al 6 cioè della serie ragazzi proprio come viene viene questo video perché non sappiamo neanche dove siamo non sappiamo neanche come abbiamo preso né una cartina né niente proprio così a caso padiglione 5 fonda dom è la mcluis vedo la in fondo x godi qua giotti line invece dall'altra parte ecco ragazzi non ve li facciamo proprio vedere tutti 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 anche perché sennò viene fuori un video di sei ore e mezza e una rottura di balle cerchiamo magari di trovare qualcosa di interessante dove magari hanno fatto delle novità consistenti dei cambi magari di di planimetrie e tutto anche se la vedo molto dura anche perché più o meno le linee sono quelle e guardiamo anche i prezzi e magari qualche caratteristica speciale ecco diciamo che l'intenzione è questa formandone su renault dovrebbe essere un 540 anche perché adesso vedendolo così ad occhio penso proprio di sì master van xs plus prezzo al pubblico 63 e 170 anche perché la versione base parte da 61 ai 90 il plus c'è dentro l'alto eletto tb concept con chiusura modulabile ti forniscono già la batteria al litio caricatore di cdc perché ovviamente quando sei in marcia con l'alternatore con la batteria al litio serve retrocamera oblò panoramico 70 per 50 frigorifero con doppia cerniera quindi lo potete aprire appunto a destra e sinistra dall'interno dall'esterno mobilio laminato e verniciatura metallizzato grigio alluminio la truman a combi diesel da 4000 illuminazione led e frigorifero compressore 70 litri vediamo all'interno formandone come commentazione quello che so io è molto molto valido appunto il frigorifero qua lo trovate all'esterno tavolino classico che lo potete mettere fuori o sennò utilizzarlo dentro ovviamente essendo un 540 se lo utilizzate fuori soprattutto in estate quando si può è molto più vivibile sicuramente il frigorifero appunto quello classico con la sua celletta freezer cioè ci sta dai quelli comunque qua all'esterno non è non è male ti fregano ovviamente la parte della cucina all'interno perché ci sta quindi sotto i fornelli avrete sicuramente uno spazio inutilizzabile che praticamente è questo e i cassetti invece partono da questo lato qua non è male questo colore però ripeto sempre discorso mio personale io ve le dico così come mi vengono ma ovviamente poi ognuno ragiona come vuole doppio fornelli col piezzo elettrico lavandino sempre qua ragazzi non lo so hanno dei problemi forse con i lavandini gli strano sulle balle sempre molto risicate guardate la mia mano cioè pochi profondi poco larghi vabbè il rubinetto così a vederlo ci sta io non sono tanto per il discorso cucina attaccata al letto però vabbè sempre cosa mia personale mobilio sopra ecco sono pochi profondi cioè adesso sicuramente dal video non rende ragazzi però guardate c'è una spanna cioè non potevano farlo arrivare qualche comunque ci stava dentro più roba ed era molto più capiente non lo so vabbè scelte centralino ovviamente l'ha messa qua perché là davanti non c'era spazio qui avete altro armadietto per il discorso del letto letto matrimoniale che ovviamente da questa parte qua che la parte della testa è più largo poi la parte dei piedi è leggermente svasato mobiletto mobiletto anche lì però essendo un 540 ovviamente lo spazio è quello oblo sopra doccia con la porta a scomparsa miscelatore staccato oblo non avete la finestra lavandino dai ci sta poco profondo quindi schizzi ovunque vabbè il lavandino si tira su perché si lascia spazio dopo al water quando appunto vi serve il fatto che però la doccia si chiude tutto senza la tendina è un plus sicuramente come vi ritrovate in dinette la classica armadietto qua ecco questo l'han fatto abbastanza profondo ci sta almeno uno l'han fatto e non è male oblo anche qua panoramico sopra cappelliera vi trovate anche qua un po risicato secondo me l'apertura iniziale però vabbè poi dopo dentro lo spazio comunque c'è cabina renault master con sedili ovviamente girevoli lo spazio questo ragazzi discorso della retrocamera ce l'avete nello specchietto retrovisore perché è molto più largo con anche i comandi lì guardiamo il gavone dietro essendo un 540 vabbè dai onesto ci sta non è male abbastanza capiente avete un piccolo spazio atto qua sulla destra tutto lo spazio qua con ovviamente lo stesso pavimento che hanno riproposto dentro il vano appunto che separa dall'abitacolo al gavone qui ci sono a c'è un piccolo vano di ispezioni con i fusibili discorso batteria e tutto quindi non è male a reato quindi ci sta qui invece il vano bombole adesso vediamo se una bombola che sicuramente non ho letto lì ma ci starà una da dieci chili come grandezza è quella le due griglie di scarico per la reazione vabbè quelle sono obbligatorie e un altro di qua che si accede appunto alla truma che abbiamo detto prima che era una 4000 per il 540 una 4000 va bene tendine già dietro comunque in dotazione che ti vanno a chiudere non hanno ne oscuranti tanzariere perché nel reno qua non si aprono le finestre comunque come discorso della gente se rimane questo come quantità gestibilissimo anche perché riuscite a vedere tranquillamente i vani camper senza problemi ecco la gente c'è in giro ma non è una ressa essendo il primo giorno buono per il momento va bene qua siamo in elnag questo qua dovrebbe essere sicuramente un 636 col tetto soffetto adesso in un attimo lo vediamo questo a letto a castello dietro matrimoniale appunto a castello van 2 xl premium partiamo subito dal prezzo che la versione base viene 66 390 con un 2240 cavalli se no se invece volete con il tetto pop up nero più lo skyroof sono altri 7000 qualcosa vernice special soli di lanzarote altri 600 euro per un totale 74 mila e 313 del veicolo esposto partiamo subito dalla dinette classica con il tavolo ripieghevole che almeno c'è un attimino più spazio quando non lo si utilizza mensole comunque anche queste qua più o meno come abbiamo visto prima sempre stesso discorso un attimino risicate potevano sempre stare un attimino fuori però così illuminazione a led skyroof come abbiamo visto dalla descrizione tetto a soffietto con letto sopra matrimoniale due fuochi con il piezo elettrico il lavandino vediamo se qua beh almeno come profondità ci sono stati non è topissimo però profondità c'è mini tagliere che ovviamente ti funziona anche da coperchio e lo potete richiudere così appunto per attaccare quello che volete cose varie sopra la cucina troviamo una dispensa tanto alta e sempre la profondità è questa parer mio avrebbero magari messo una messa di traverso per appoggiare almeno riuscivate a sfruttare tutta l'altezza però ci sta magari per le bottiglie dell'olio comunque quelle cose lì aceto è quelle bottiglie un po alte quindi non è proprio da scartare sotto la cucina tre cassetti generosi sempre anche questi qua con il softlock ormai vabbè penso che lo facciano quasi tutti per passare poi un frigo sempre tetford penso che sia da 84 litri con il freezer quasi tutti i tetford li stiamo vedendo adesso il frigo sotto abbiamo il discorso dell'armadio con la penderia piccolo vano ispezione sempre sotto lì gavone che lo vediamo tra un attimo letto anche questo qua si può alzare come potete vedere quindi recuperate spazio nel gavone vestivaggio di e bike o altre altre cose diciamo che che vi servono pensi lì ne abbiamo 1 2 3 e 4 ci poteva stare il quinto lì però vabbè avete altri piccoli vani qua che ovviamente l'hanno fatto per la salita del letto però si possono scrivere semplicemente delle cose finestrato una due e tre quindi ci sta bello finestrato specchio sulla porta del bagno maniglia ci sta buona doccia stra generosa se doccia generosa finestra in bagno quindi approve e lavandino però vabbè ottimo che non c'è la tendina c'è la sua porta che si va a chiudere lì così siete belli tranquilli senza bagnare dappertutto però dai tutto sommato ci sta al bagno buono sedili anche qua vabbè ovviamente girevoli fiat ducato con motorizzazione nella 6 metri e 36 questo prosegue il giro questo qua tutto stand mcluis con massardati semi integrali motorhome adesso magari stamattina ci dedichiamo al discorso van poi magari pomeriggio ci buttiamo dentro qualche bel camperozzo di quelli belli però da 8 metri e 50 9 metri andiamo su di prezzo non guardiamo quelli piccoli stand benimar questo 6 36 mi sono fermato un attimo anche perché mi piaceva il discorso della mensola qua per estivare non è male garage sempre molto capiente bombole da questa parte ovviamente i letti sono sempre come tutti non lo sto dicendo ma sono sempre tutti componibili e si possono aprire per la varia gestione del carico pensili ce ne sono alla grande troppo scuro è troppo scuro è più che altro legno così vediamo magari di sbirciare un secondo all'interno intanto guardiamo fuori l'esterno come è questo ad esempio i cerchi non sono in lega adesso ovviamente questo va esposto poi sicuramente si potranno avere se si vogliono ci mancherebbe fu uno optional 140 cavalli modello standard 56 770 il modello esposto è appunto questo qua uguale uguale a questo come prezzo e viene fornito già con 140 cavalli tendalino pannello solare luce esterna porta bici porta zanzariera riscaldamento a gasolio e tappezzeria berlin gradino esterno frigo da compressore sempre qua all'uscita se non mi rimane in mano con la sua celletta freezer staccata questo quando matic non è un tetford tavolino con la sua espansione qua sedili girevoli sempre su fiat ducato ecco questo qua c'è la caperiera a differenza dello sky view è questa ma come la nostra comunque bella apertura bello profondo non all'oblo panoramico c'è lo blocco leggermente più piccolo quello che tra l'altro abbiamo noi nella zona letto ecopelle come imbottitura finestra sempre appunto con zanzariere e scuri vediamo la capienza ecco questo la capienza ci sta anche perché sono belle profonde e belle alte questo top buono vediamo la zona cucina la cucina sono stati leggermente più stretti però sempre alti sempre il discorso magari metterci appunto bottiglie d'olio cose alte fornelli doppi con il piezzo elettrico lavandino potevano anche qua un attimino abbondare un due dita da una parte in vita dall'altra però va bene lavabo rubinetto ci può stare vediamo sempre il discorso delle posate anche queste queste qua sono senza soft lock ragazzi quindi a chiusura proprio così sempre stesso discorso avendo il frigo all'entrata vi frega lo spazio ovviamente qua in cucina qui però avete tutto lo spazio aperto e qua sotto sicuramente c'è un armadio molto capiente per il discorso sempre della dei vestiti la penderia pensili su tutti i lati sia sulla sinistra che anche sulla destra le trovate abbastanza capiente si dai onesti dai generosi letto come abbiamo visto fuori appunto scomponibile ed è un classico matrimoniale ci sta vediamo il discorso del bagno finestra lavandino siamo più o meno sempre lì doccia generosa e però non vedo il discorso della separazione della tendina che adesso non so se l'hanno tolta per l'esposizione o meno però vabbè vetri anche qua pensili per qualcosina proprio risicati risicati però vabbè meglio che non averceli meno male il benimar 636 e questo trasferiti al padiglione 3 qua c'è rimor adria naus adesso vediamo anche giula in fondo cosa c'è qualche anche roulotte caravan van tourer anche lì già poi incomincia esserci un po più di gente si è già quasi poi vabbè ovviamente ci sono le marche quelle un po più conosciute dove si accalcano tutti sicuramente da cartago malibu sarà sarà così e invece magari le marche un attimino un po più defilate non non se le filano eccoci finiti in un bel posto padiglione 2 dove c'è anche da mangiare mica vi fanno claudia cioè sia da mangiare ma ci sono anche appunto le varie marche tool truma teleco tutto il discorso accessori e là in fondo c'è cartago quindi arriviamo adesso vediamo se non c'è tanta gente ce le guardiamo adesso sennò skipiamo e ragazzi guardate qua che cosa c'è su mercedes gulliver 4 per 4 già partiamo subito con un bel verricello davanti lo snorkel fuori per il motore ovviamente le gomme sono per quanto riguarda fuoristrada bf goodrich beh dai come passa ruota ce n'è una spanna ragazzi discorso dell'acqua discorso della corrente fuori finestra della dinette ci sono due vani appunto porta porta cose porta oggetti non si può salire però vabbè lo si può vedere da fuori adesso vediamo una sbirciatina il posto dietro per la ruota di scorta dancio traino dietro e andiamo a sbirciare sotto questo è coinventato non so se riuscite a vedere ma gulliver 5 95 4 per 4 abbiamo 5 95 come lunghezza larghezza 2 metri 0 5 altezza quasi 3 metri 295 e posti omologati 4 serbatoio acqua chiara 150 litri coimmentato e riscaldato serbatoio acqua di recupero da 90 litri anche questo qua coimmentato e riscaldato batteria supplementare da 120 ampera gm nds qua vabbè non hanno montato la litio però dopo ognuno fa quello che vuole bella nota dolente 156 mila euro però è un 3.194 cavalli trazione integrale inseribile con riduttore comprensivo optional meccanica dotazione personalizzate questo qua su strada viene 179 8 180 mila euro su strada adesso magari faccio la foto ve la metto sempre qua nello schermo laterale così almeno potete vedere tutte le dotazioni con più dettagli abbiamo una sbirciatina beh subito appena entrate trovate la prolunghina estraibile lavandino abbastanza capiente rubinetto anche questo qua stracapiente lì c'è la dinette tavola espandibile tre vani di stivaggio qui un letto che adesso quel pulsantino è per alzarlo e abbassarlo quindi avete un letto singolo lì o una piazza e mezza adesso bene o male non si capisce bene però c'è il letto appunto che scende qua che diventa un matrimoniale ci sono anche un po di pensili la sopra e qui ovviamente ci sarà il bagno posteriore la massa bene top ragazzi piano induzione a le tendine perché non agli scuri però comunque le tendine che vanno a coprire l'illuminazione a led penso ma sicuramente si comprese usb e c'è anche la cappa lì di aspirazione ed è questo già comincia a cambiare come come piantina non sono i soliti vanno sono i soliti camper ci sta buono poi bello chiaro con i colori chiari c'è anche tutta l'imbottitura in eco pelle l'intorno ah che roba ragazzi quelle varie sospensioni tanta roba questo bello stand della top drive system ciao giulia piacere ciao ragazzi ciao 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 eccoli qua eccoli qua eccoli che belli lo stand ma è micidiale qua ciao chiaro cina stasera ciao 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 ragazzi ciao giulio stasera ciao 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 a dopo dopo ciao e dopo aver lasciato giulio e chiara guardate cosa ha beccato claudia all car eccolo qua e questo ragazzi è una bomba mamma mia arrivo alla finestra praticamente cioè guardate che gomme mamma mia il veico daily enorme 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 non si può salire ovviamente non è accessibile però guardate che bella porta in tutta la sua bella guarnizione finestre sbirgiatino ma tanto non si vede niente ovviamente i gradini per salire ragazzi perché è una cosa allucinante ci sono i vani fuori ovviamente per lo stivaggio di tutte le attrezzature anche dietro un altro mini gavone da questa parte qua trovate l'altro gavone posteriore con la ruota di scorta e beh bello è bello è bello bello vedete come sono i gavone adesso ve li faccio vedere proprio così cioè trovate il vostro gavoncino esterno e per l'estivaggio appunto delle varie cose qui c'è un attacco rapido si presume per l'acqua penso non mi sono sicuro ma penso di sì e in linea di massima all'esterno è questo però è enorme 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 non so se sono quattro metri d'altezza tra qualcosa sicuramente qua a cartago come potete vedere stupisce sempre gavone con la propria cassetta che escono fuori altri ripiani ovviamente tutto doppio pavimento riscaldato qua trovate un altro gavone guardate qualche roba ma mamma ci stiamo dentro noi con il letto matrimoniale ci stiamo dentro se uno dei due si incazza e dice io vado nel gavone su mercedes questo è un i61 xl le adesso se non c'è troppa gente andiamo a vederlo ma la vedo dura tentiamoci tra qualche minuto ecco qua combinato un altro dei miei danni due belle porzioni di patatine fritte e poi c'era anche questo bel hamburger non strano che mi chiamava e ahimè vabbè andata così non poteva fare altrimenti eccoci ragazzi su un malibu vediamo dinette con ovviamente sempre l'isola espandibile cappelliera con i vari pensili ovviamente stra profondi e stra imbottiti dietro scusatemi sono di parte a me malibu lo sapete che sfondate una porta aperta super cappelliera sopra tra l'altro alla fine è come la nostra però ovviamente con la parte sopra che vi va a coprire oblo panoramico classico solito cabina fiat ducato 2022 sempre con i sedili che si vanno a girare malibu trovate anche il doppio pavimento qua per andare a riporre quello che vi serve scarpe e quant'altro tutta tappezzeria bianca similpelle e copelle zanzariere e scuri classico della Dometic fornello a due fuochi sempre col piezzo elettrico invece per quanto riguarda il discorso del lavandino e dai profondo non largo ma profondo quindi ci sta abbastanza sopra trovate il pensile della cucina anche qua vabbè stra profondo perché qua alla grande la cosa buona è che hanno fatto il legno qua e poi dopo la tappezzeria quindi non vanno a sbattere le cose contro la tappezzeria ma rimangono contro il legno quindi top qua trovate armadietto sopra al frigor che adesso vedremo tra un attimo e comunque anche qua lo stivaggio ci sta è bello generoso qua frigo con davanti tetford con davanti sempre il discorso della del legno cioè la freezer e frigo sotto in basso super capiente letto dietro essendo su un 640 potete dormire sia trasversali che anche longitudinalmente con l'isoletta qua appunto per salire bagno malibu che qua ragazzi top questo non ho la finestra però in altri modelli ci sono il vater la scomparsa equa miscelatore doccia classico il lavandino non è proprio grandissimo però ci sta vano sotto anche qua per le varie cose specchio e qua adesso accediamo al gavone che lo vediamo un secondo da dietro qua tutti i pensili ne abbiamo tre da questa parte tre dall'altra con anche il discorso delle mensoline non sono tanto capienti sarebbero potuti arrivare fino a qua a parer mio per discorso di portabilità però vabbè vanno benissimo anche questi finestrato sia doppio che qui sia doppio là e dietro sul portellone posteriore adesso vi porto a vedere anche il gavone dietro che sicuramente sarà molto generoso sempre protezione per gli scuri ovviamente andando a dormire con la testa o comunque con i piedi modo tale che non vai non vai praticamente rovinare lo scuro o la zanzariera tutto il rivestimento sia l'imbottitura che anche legno comunque classico da da malibu vanno bombole qua sulla sinistra che ce ne stanno due da dieci chili che c'è anche il discorso del controllo del gas e poi gavone super generoso anche perché calcolate che c'è questo ripiano qualche ve lo divide in due quindi se volete stipare sotto dalla roba che usate meno la mettete sotto e il resto lo mettete sopra e ci sta alla grande ovviamente ci sono le doghe trasversali in acciaio questo si può anche tirare su senza problemi e praticamente vi ritrovate il classico stivaggio di tutti i van che arriva praticamente fino fino a questo in dotazione c'è anche la retrocamera nel terzo stop 64 normali però con tutti gli option arriviamo così la 92 94 cioè quindi proprio alla grande è vero che un 6 metri 40 però sono sono anche 90 passa mila euro ragazzi guardate chi abbiamo incontrato così così organizzati on the road eccoli max e nadia non so se vi ricordate dal video che aveva fatto del camper e tour van tour ecco sono loro e eccoli qua adesso ci facciamo un giretto andiamo a fare un pochino di acquisti due o tre stupidate e poi prosegue sono sempre due così con il lavandino pensi le quali adesso ragazzi siamo sul camper che praticamente il modello dopo quello di max e nadia un livistone un roller team 5 giusto e stavamo vedendo più o meno le differenze il letto castello ti rimane uguale al tuo pensi sono uguali il frigo redentico al mio sempre un trivalente anche questo contro valente questo qua non monta il compressore ma più uguale al mio questo se dalla dometic con la sua celletta frizza staccato che non mi piace hanno eliminato la cappelliera il pensile questo qua della cucina uguale al tuo no è simile e adesso li fanno tutti stralti però leggermente stretti invece il tuo ti arrivava fino a quattro si sfrutta un po di più però c'è il pensi di cucina qua qua c'è un altro ripiano sopra che anche voi ce l'avete c'è un altro ripiano giusto per mettere delle cose il bagno cambia vediamo il bagno se qualcuno ha fatto già la doccia mi sa c'è la finestrella uguale alla tua lì però il tuo adesso lavandino lì invece il tuo ce l'hai qua se c'è sempre la doccia col miscelatore purtroppo quel lavandino lì e risicate piccolino perché praticamente da qua a qua è veramente poco spazio c'è il funghetto questo qua da reazione per il discorso dei vapore e tutto perché ovviamente l'oblò non c'è e però vabbè linea di massimo il bagno è questo classico vc normale manuale con lo scarico qua hanno messo il divisore non mi piace tu invece ce l'hai tutto uguale no uguale con questi qua più alti in modo tale che non ti cade fuori la roba è vero perché il gradino questo qua basta che gli metti qualcosina il pacchetto di patatino che tram ti cade subito hanno spostato le prese io ce l'ho praticamente in verticale quelle hanno messo sotto però vedi col fatto che comunque avendo spostato le prese ti frega da dentro ti fregano lo spazio perché hai la gobetta qua perché ovviamente ci deve essere il dietro delle prese sia di qua e di là forse sono a scala non so forse quello dei pannelli solari no si fotovoltaico ma hanno eliminato la cappelliera che per me come era non c'è la cappelliera anche noi nel nostro ce l'abbiamo a non avere la cappelliera veramente ti toglie tanto tanto sotto l'inverno mettiamo le coperte ma tutta la roba veloce che la tiene lì a ci sta senza cappelliera un po' un casino l'oblò panoramico questi qua ce l'hanno tu non ce l'ha perché c'è il turbo il turbo invece invece quello grande se c'è il ducato manello nuovo la cabina cabina ducato 2022 vabbè ormai adesso tutti la montano se di linee coppelle tavolino uguale al tuo max ma è vero non si non si piega così il gioco ci sta da una parte perché comunque quando sei quasi un po più libero però secondo me ti rimane molto più fragile infatti guardate come balla qui identica la stufa è uguale la nostra solo che lo abbiamo il cassettino per la batteria qua sì questo non ce l'ha ci avrà il discorso della di net sotto che si alza se si si alza la pancia la batteria come la batteria l'ha messo in seguito qua i cassettoni sono uguali al tuo max a settore si cambia solo le posizioni che abbiamo sempre sono un po ballerini se diciamo che c'è la chiusura soft law che va bene però sono un po si ho visto presente con il peso vanno un po regolati attenzione adesso uguale sempre sempre scaldamento da basta siamo su 61 490 2.240 cavalli fiat ducati e alla fine comunque i prezzi meno male adesso sono questi sono le zanzariere comunque sia sulle porte allo laterale che anche su tutte le finestre cerchi in lega comunque da 16 la colorazione ci sta è bella si vede forse un pochino appena si sporca perchè vedi anche lì però quello che dopo ci sta non è un pochino appena ragazzi siamo saliti sul nostro praticamente un twin plus della posle adesso vediamo un attimino qua dietro non ci sono le luci accese accendiamole praticamente dietro uguale ci sono sempre mensole a sinistra mensole di la mensole di la sempre ferro di cavallo come grandezza sono praticamente uguali identiche hanno aggiunto delle prese qua dietro che noi non ce le abbiamo qua c'è sempre la barra di rame con il 12 volt che tu te lo puoi spostare quello uguale letto è praticamente identico finestra ce l'abbiamo anche noi lì gavone lo vediamo da fuori armadio sempre porta abiti praticamente identico non cambia assolutissimamente niente frigor sempre trivalente da 2 metri quello che abbiamo cambiato noi perché non raffreddava la mazza ed è sempre quello da 80 litri si identico al nostro che avevamo porta sempre uguale i colori li hanno tenuti uguali hanno cambiato i colori del pavimento doccia sempre uguale water identico lavandino in acciaio sempre stesso discorso finestra del bagno con zanzariera e oscurante non ha lo blu in bagno questa no noi abbiamo lo blocco a loro non ce l'ha tendina sempre uguale water che si può appunto girare con il discorso sempre dalla ghigliottina vabbè manuale non elettrica i pensili qua non cambiano anche perché ne avete sempre due qua separati con sempre presa 2 30 12 volt 12 volta anche qua uguale a noi cambiano i colori del tavolo e della tappezzeria indi invece uguale tavolo sempre uguale difatti non si muove di un centimetro sedili davanti uguali la cabina però è sempre 2021 perché è uguale alla nostra solo che queste suscitano e noi ce l'abbiamo soffiata cappelliera idem specificato quella nostra questo al soffietto cosa che va bene non ce l'abbiamo ma questo è un optional montabilissimo soffietto praticamente stra ovviamente grande ma ci sta è così loro non hanno lo blu panoramico perché hanno soffietto ma hanno quello blu lì cucina sempre uguale due fuochi dometrico col piazzo elettrico lavandino è uguale il nostro leggermente un po più segnato perché aveva utilizzato le ci sta però è così è uguale ragazzi non cambia praticamente niente cassetti sono uguali ai nostri l'unica cosa rispetto al nostro hanno cambiato la cerniera qua è uguale la stessa cerniera di due cassetti sotto hanno usato la stessa cerniera anche per questo qua delle posate quindi è leggermente più resistente del nostro però il soft lock non ce l'ha come noi questi sono uguali se identico niente non cambia assolutissimamente nulla qua c'è l'accesso per il discorso qua sotto si hanno fatto un se pare dalla truma cosa che noi non ce l'abbiamo qua abbiamo direttamente la truma con fatto se pare il salvavita qua per il 220 l'hanno messo qua noi ce l'abbiamo incastrato la dietro però poco importa e anche la centralina qua è uguale poi c'è lui che lui viene fornito in dotazione con questo camper è uguale al nostro non cambia navazzo aspetta che scende che faccio salire gli altri solo che il problema è uguale al nostro ma il prezzo no sono un bel 65.400 e qua il gavone è praticamente identico al nostro stesso stesso gavone con la stessa capienza anche perché va beh il modello del camper uguale le dimensioni sono le stesse ragazzi non cambia assolutissimamente niente sempre le bocchette le mettono lì vigliacca miseria se ti fanno una bocchetta qua sul letto come abbiamo fatto noi quindi l'aria praticamente ce l'hai sempre solo da sotto e da qua e vanno bombole uguale due da dieci chili ma spiaccicato uguale da una parte ci sta che costa leggermente più di quello che avevamo pagato noi perché questo soffietto però gli aumenti ci sono stati davvero tanti e si possono vedere c'è praticamente un modello nell'abbiamo preso 2021 questo 2023 ragazzi due anni stesse identica solfa mezzo buono va bene non c'è nessun tipo di problema però in due anni praticamente non hanno cambiato niente quindi non ci siamo non ci siamo i materiali non ci sono ovviamente quindi loro tendono sempre a spostare qualcosina ma la solfa non cambia qua abbiamo i due shine 640 e 6 metri sempre appunto con il letto longitudinale adesso lo vediamo in un attimo partiamo subito dal prezzo escluso trasporto e immatricolazione 78 mila 529 questo qua è il 6 metri il 600 l di net lucia led anche qua chiusura l'ha fatta così senza il push ma praticamente che questo si incastra dentro le due rotelline boh non lo so forse per pressione ci sta ma vabbè qua hanno fatto tutta una cosa super ultra bella con tutti i led intorno poi gli ha messo tipo una plastichina che balla un po però vabbè oscuranti ragazzi zanzariera ancora quelle vecchie cioè non so neanche quelle nuove no 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 non ci siamo guardate guardate già che roba no 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 bocciato tavolino su 6 metri così stream in sito no no perché quello che non ha neanche la gamba ciao questo qua c'è ma che roba lo usi dopo tre volte ti rimane in mano cappelliera quella che appunto se volete la usa utilizzate se non la tirate su ma anche no con questa retina qua che sembra una roba da tipo aereo fiat ducato vabbè 2022 quello ok oblo panoramico luce in dinette qua tutta centralina truma domitica perché frigo da compressore lo potete comandare da qua anche qua frigo da compressore con le due aperture sia esterna che interna con cella freezer qua la prolunghina ce l'abbiamo laterale di qua anziché su questo lato qui fuochi due fuochi con questo qua che un padellozzo vabbè lavandino quattro dita di profondità inesistente piezo elettrico si il rubinetto ci può anche stare perché è carino mi sembra quasi robusto quindi quello glielo facciamo passare avete tutta la spatafiata di pensili mobiletti tutti sempre con lo stesso discorso qua qua per la cucina invece qua zona letto i letti trasversali per averli sui sei metri praticamente viene così poi in mezzo ci avete l'isoletta con i gradini che salgono il bagno al oblo non ha la finestra e al discorso appunto del summit che si sposta così con il con il bagno ci può stare c'è la gente che piace a gente che non piace però vabbè la porta scomparsa e questo lo andate a spostare qua e recuperate spazio io il letto così sinceramente li farei solo sul 6 metri e 40 perché sul 6 mi finestrato 1 2 3 e col 4 lì e come colorazioni sono queste qua sul grigio e il gavone ragazzi è stracapiente anche perché qua ci avete il serbatoio dell'acqua di qua ci avete il vano bombole però come spazio ce n'è alla grande l'unica cosa è che quando ci avete il gavone pieno questo voglio vedere ad aprirlo perché ma dovete spostare tutta la roba anche perché portare fuori la bombola di 10 kg aprendola solo così è un po un bel problema però vabbè questo è quanto del summit 600 questo è il gavone del 6 40 partiamo da dietro perché su ci sono delle persone almeno vediamo bene il gavone ragazzi qual gavone è una bomba davvero grande 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 sempre serbatoio adesso questa volta qua sulla destra nel 6 metri e sulla sinistra da questa parte qua sempre vanno bombole con lo stesso discorso vabbè perché per recuperare ovviamente spazio nel gavone qua una porticina per le bombole non ci poteva stare l'hanno messa lì però sinceramente io avrei sprecato un pochino più di gavone però almeno le bombole tiravo fuori da qua come il nostro che all'atto pratico sicuramente ne giovava però vabbè questa cosa un scelto di produzione ecco nel 6 metri 40 vedete che comunque il letto ti rimane molto molto più lungo diciamo che la differenza tra 6 metri e 6 40 sta tanto nel posteriore sta tanto nel letto perché quei 40 centimetri comunque le recuperate nella zona notte perché poi per il resto dal bagno in poi rimane praticamente uguale a 6 metri non cambia non cambia nulla finestrato questa volta qua sia lì che la i laterali diciamo però non ha le finestre dietro questo perché perché comunque loro hanno studiato che uno sta qua quindi per la testa la finestra non ci vai a picchiare quindi va bene non so se si sente ma coimentazione vabbè a zero almeno nel retro non c'è assolutissimamente niente sportellino dell'acqua lo trovate sempre sul lato appunto di qua dove c'è il serbatoio non entro ragazzi perché l'ho visto leggermente là fuori cambia solamente per il discorso appunto del letto che è un po più lungo perché poi l'interno è praticamente uguale l'unica cosa che questo qua su un 130 cavalli e questo qua invece su un 160 cavalli quindi questo l'ho andata a pagare 78 e 5 quello lì invece se siete sui 76 però meno male è questo in casa post non c'è tantissimo c'è qualcosa lì anche perché c'è il post vario che quello più alto con il letto matrimoniale dietro a castello come anche questo qua però in linea di massima più o meno se sempre rimasti sulle cose degli anni scorsi ecco come si presumeva non è che ci siano molte molte novità anche in casa posla e finiamo in mebb system per quanto riguarda le sospensioni ad aria eccole qua ragazzi queste qua sono le nostre con il compressorino che ci ha montato emiliano eccole qua posteriore del fiat ducato ovviamente queste sono di questo colore a noi le ha fatte verdi sono gli ammortizzatori posteriori siamo appena venuti via dallo stand della oma come avete visto ho fatto qualche ripresa mi sono fermato a parlare con alessio perché aveva visto anche il video che avevo fatto sulle sospensioni e tutte è appunto è rimasto contento anzi se lo stai guardando questo video se lo guarderai come ti ho detto prima e le sospensioni meritano il lavoro merita e quindi ci mancherebbe perché non valorizzarlo adesso proseguiamo il giro ragazzi vediamo qualche altro stand qualche altra cosa però tutto sommato bene o male le cose che stiamo vedendo sono queste non ci sono come detto prima tantissime novità sul discorso van adesso vediamo se magari ci rimane voglia e tempo di stuzzicare qualche camper e il giro prosegue questo giotti line ragazzi sono 6 metri però appunto è per questo che c'è la doccia separata adesso non riusciamo a salire perché c'è una fila della miseria praticamente l'armadio che ovviamente facendo una doccia da una parte e il bagno dall'altra il posto per l'armadio sei fregato allora loro cosa hanno fatto durante il viaggio quando non si utilizza la doccia c'è la roba lì dentro quando ti serve la doccia lo vai ad aprire però praticamente ti frega il discorso qua del letto quindi c'è è un doccia separata ma alla fine qualcosa devi sacrificare questo il vano dietro di carico a due spaziettini qua per metterci giusto qualcosina vano delle bombole quest'anno abbiamo visto che fanno questa cosa qua invece di avere il classico push lock per aprire gli mettono questa questa diciamo apertura qua però c'è secondo me terza volta quarta volta che lo apri queste vettine qua saltano però sono sempre mie considerazioni qui invece però come abbiamo visto il discorso della coimentazione dovrebbe essere fatto molto bene anche perché l'hanno fatto su tutte le pareti e su tutti i punti termici che ce ne dovrebbero essere il meno possibile almeno così dicono però anche qua gli scuri sono questi qua che c'è guardate che roba è nuovo questi qua sono gli scuri che si usavano una volta comunque come avete visto siamo sempre sui 60 mila euro però io non è che voglio fare questi video per discriminare le aziende o per far così però comunque siamo nel 2000 quasi appunto 23 i modelli dovrebbero essere quelli del 2023 andare comunque a mettere degli scuri che si usavano anni fa che comunque non stanno su o tante piccolezze che poi dopo alla fine non sono poi così innovative e rimanendo anzi alzandosi sui 60 mila euro ma puntini punti di punti di punti e anche le 6,50 e le 6,90 eccoci su un camper che non c'è nessuno e posso godermelo tutto un bel euromobile da 115 mila euro come avete visto bene partiamo dalla dinette ce l'elencherà claudia aperitivo aperitivo claudia non ce la fa più ragazzi l'ho massacrata oggi oggi ha fatto andare a destra e a sinistra non vuole più vedere camper e van si però non vorrà più vedere camper e van per un mese non di più qua comunque ragazzi c'è tutta la dinette molto larga molto spaziosa con il letto basculante che scende ovviamente è un motorhome il tavolino si piega a metà tipo sandwich e poi dopo lo potete tranquillamente aprire quando siete in più persone i sedili davanti sono appunto girevoli come ormai praticamente tutti Fiat Ducato penso un 2021 se non sbaglio non erro perché la cabina mi sembra 2021 qua c'è una bella radio bella gigante touch 800 mila pollici e diciamo che come spazio qua siamo alla grande vediamo un po' i pensili giusto per farci un po' i cavoli eccoli qua doppia mensola con il vano sopra e il vano sotto quindi riuscite tranquillamente a stipare un casino di roba qua andiamo a trovare praticamente la cucina con un tre fuochi della Tetford il piezo elettrico c'è anche qua vediamo il lavandino che di sotto il lavandino è sempre un po' finestrella appunto sulla cucina con tutta l'illuminazione a led la cappa e poi ovviamente la maleducazione della gente non è mai troppa sono saliti su e non ho potuto neanche più farvelo vedere perché l'asciura ci aveva fretta di vederlo e vabbè non fa niente comunque si e dov'è comunque 115 mila euro un camper gigante questo è riassunto vabbè ci riproviamo ragazzi con questo Malibu semi integrale su cabina partiamo dalla cabina Fiat Ducato 2022 sedili semilpelle ecopelle girevoli c'è tutta la tendina che copre in giro però avete anche gli oscuranti della Remis quindi doppia cosa letto basculante che va a scendere quindi vi occupa tutto lo spazio e salta fuori un bellissimo matrimoniale l'isola qua in mezzo è classica isola appunto del Malibu, Cartago comunque potete tranquillamente starci 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone si presume almeno poi dopo bisogna vedere come ci state quando ovviamente il letto è su vi ritrovate una mensolina qua con i faretti sotto e tutte le varie opzioni delle luci da quest'altra parte di qua altra mensolina con televisione a scomparsa dietro la piccola dinette quindi top ci sta molto bene da questa parte di qua c'è la sua centralina con tutti i comandi della truba high net per poi dopo passare a questo frigo a compressore presumo si presumo si compressore dalla dometic con frigor sotto e freezer sopra con la cella separata è una bomba ragazzi e poi questo abbiamo anche un bel fornelletto sopra topissimo guarda qua che roba bomba se ci sta passando la cucina abbiamo un tre fuochi della dometic se non sbaglio no si forse un buono lo so vabbè tre fuochi con piezzo elettrico ovviamente per quanto invece riguarda il lavandino beh dai abbastanza generoso ci sta non è male il lavabo ovviamente ci sta alla grande perché comunque viene giù così quindi stra comodo pensilone e la guardate qua che roba con la macchinetta del caffè della crops pensilone per la cucina con uno due e tre ripiani quindi qua potete sbizzarrirvi alla grande pazzo sotto per la cucina e beh dai ce n'è ce n'è alla grande qua sotto incominciate a trovare per le posate i vari bottoncini le varie valvole per il discorso del gas e tutto il resto softlock ovviamente su tutti i ripiani anche qua si apre portabottiglie e quant'altro passando alla zona notte beh ragazzi guardate qualche roba letto queen sides ma proprio top alla grande qualche roba non mi dire che qua c'è il e qua sotto ragazzi ci sono qua sotto trovate tutti gli altri cassettoni sembra di una softlock sotto letto cioè proprio qua quello spazio si spreca davvero altra bella televisione adesso vabbè non so se la messa qua per esposizione ma ci sta e se chiudo questa teoricamente dovrei chiudere un po tutto sì perché si spostano ci sono i binari vabbè si riesce a fare tutto diciamo che questa zona viene praticamente esclusa dal resto del camper e potete tranquillamente avere la vostra intimità qua e il resto dell'equipaggio fa altro di là diciamo doccia separata che qua proprio è una cosa mamma mia da hotel per poi passare al bagno che se non sbaglio se qua chiudo o si forma praticamente un'altra zona tutta praticamente separata vc lavandino non c'è la finestra però c'è un bello blu sopra qua tutte le specchiere con con dentro i vari armadietti ma qua proprio ragazzi che dire che qua lo spazio non si spreca proprio si regala le due finestre finestrato sia di qua che anche di là è proprio una bomba una bomba ci dovrebbe essere qua tra l'altro un vano di ispezione giusto sic nel doppio pavimento che ovviamente tutto riscaldato anche il doppio pavimento come classico da cartano il gavone invece dietro è una bomba anche questo allora garage per bici caricabile fino a 150 kg 124 centimetri di altezza e 105 di larghezza quindi ci sta tranquillamente una bici adesso non solo scooter quanto occupa però qua ce n'è alla grande di spazio e siamo comunque come avete visto sui 94 mila euro quindi comunque un signor camper semi integrale ma un signor camper ci avete l'accesso del gavone anche da questa parte di qua e da questa parte di qua tutto il camper vedete il doppio pavimento com'è che poi è uno stra doppio pavimento cioè tutto riscaldato i tubi della truma che passano questa è la parte appunto della dinette che ci deve essere per forza questo supporto qua in dotazione è omologato per il discorso della cintura di sicurezza perché ovviamente in fase di incidente questo non si deve rompere perché ovviamente vi deve salvare la vita però è tutto davvero va c'è il pulsante qua che accendete e spegnete le luci a queste cose quale proprio della cartago mi fanno impazzire questo qua è tutto rivestito commentato adesso qua dietro non so cosa c'è lo scopriamo è chiuso non so da se si è un vano bombole un qualcosa mi sa di sì qua dentro perché c'è qua forse il discorso del gas se non sbaglio vabbè comunque vedete le bocchette là in fondo la quella lì a valvola defrost per il discorso del boiler quelle sono tutte le bocchette della truma che corrono sotto il pavimento e qua di inverno è tutto stra riscaldato quello lì è il vano tra l'altro di spezione che abbiamo visto prima da dentro ed è bel camper bello bello io tra l'altro parlo parlo da tipo non so quante ore sto registrando spero che voi mi sentite dopo in fase di editing vedo un attimino di smorzare vari casini varie cose c'era il microfono da mettere al collo però magari parlavi con altri così quindi non c'è voglia di andare in giro col microfono speriamo che i microfoni della gopro rendano pochino di giretti l'abbiamo fatti un pochino di gente l'abbiamo vista quindi ci sta ci possiamo ritenere fortunati una fortuna guarda da matti eccoci qua adesso che siamo ritornati sul camper belli tranquilli e che forse si sente anche un attimino meglio almeno spero si dovrebbe volevo volevo spendere due paroline per questa giornata anche perché sono le sei un quarto noi praticamente siamo entrati alle nove un quarto quindi ce la siamo sparata tutta 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 speriamo innanzitutto di essere riusciti a farvi vedere il più possibile sempre ovviamente tempo e casino permettendo anche perché davvero ragazzi fino alle cose che erano ma le dieci e mezza più o meno o prima di pranzo la situazione era tranquilla cioè tranquilla gestibile ma dopo davvero pausa pranzo comunque anche soprattutto pomeriggio è diventato veramente un carnaio non si riusciva più comunque a salire sui camper sui van se si riusciva a salire dovevi farti comunque la coda e sinceramente per andarli a vedere e star lì magari un quarto d'ora venti minuti in fila dove comunque ti spingono ti passano davanti ti fanno è anche no abbiamo preferito comunque girare abbiamo appunto trovato max e nadia sia stati un po con chiara e giulio lì bere un caffè nel loro stand dove sono lì alla camper tools così quindi comunque c'è passata siamo comunque riusciti a vedere qualcosina e io magari adesso poi dopo mi vado a rivedere le clip in alcuni momenti diciamo che sono stato un attimino magari non dico negativo però diciamo che ho un po detto certe cose un mio pensiero ma perché alla fine è quello il mio pensiero nel senso che comunque io faccio il paragone con il nostro camper non che tutti devono essere uguali al nostro camper perché ovviamente marca con marca cambia prezzo con prezzo idem però ho visto tante cose che a parer mio non sono innovative però comunque si ritrovano nel 2023 quindi comunque sono novità che però non sono novità quindi non è che sia poi così tanto bello ovviamente io parlo da persona che ha già un van ha visto già altri camper è cresciuto sui camper quindi mi viene naturale spontaneo fare il paragone ovviamente uno che magari capisco che arriva dal nulla è tutto nuovo per lui ci mancherebbe però appunto parlo per quelli che sono soprattutto nuovi perché quelli che ovviamente già le vedono queste cose già le sanno guardate bene nel senso che valutate tanto prima di comprarlo anche perché sono soldi e come avete visto sono tanti soldi rispetto quando l'abbiamo comprato nel 2021 sono saliti tanto 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 quindi ci metti un attimo comprarlo e ci metti altrettanto tempo magari a pentirtene o pentirtene no però comunque magari poi trovi qualcos'altro che dice però quello lì magari era meglio era peggio quindi valutate bene andate a vederne 2 3 4 20 50 quello che volete però appunto non compratelo ad occhi chiusi perché davvero rischiate di fare appunto un salto nel vuoto ovviamente io parlo sempre da persona che comunque lo sta utilizzando quindi noi ci stiamo accorgendo di tante magari comodità scomodità di tante cose che magari anche prima non ci facevamo caso quindi è per questo che facciamo queste valutazioni o diciamo queste cose perché essendo in giro in libra non in libra in campeggio comunque viaggiando te ne accorgi quando vai a vivere il mezzo che sia un camper un van qualsiasi tipo di mezzo ti accorgi dei suoi limiti ti accorgi dei suoi presi ti accorgi dei suoi difetti quindi nasce tutto da questa la mia la nostra valutazione il nostro pensiero e nostre idee è poi ovvio che ognuno ragiona modo suo ognuno la vive come vuole c'è chi gli piace di più il camper piccolo c'è chi gli piace più il camper grande quindi è abbastanza personale la cosa c'è chi ha bisogno di più spazio c'è chi ha bisogno di meno spazio quindi è tutto soggettivo ovviamente siamo noi a fare i video ci teniamo a essere sinceri essere trasparenti e questi sono i nostri pensieri comunque ci siamo divertiti interessante anche perché comunque abbiamo abbiamo incontrato un pochino di persone è bello quando magari ti fermano anche nel nostro piccolo però ciao ragazzi e guarda i vostri video così di qua di là ci siamo fermati tanto a parlare con simo e matte tra l'altro se state vedendo questo video anzi dovete guardarlo ciao ancora tutte e due grazie mille di esservi fermati e di averci appunto conosciuto in in prima persona e appunto abbiamo parlato sia ieri sera poi dopo li abbiamo rincontrati anche anche in giro oggi ciao appunto anche a max e nadia che ci hanno scritto e ci hanno raggiunti qua al salone un salotone anche a te gianni con la tua bellissima famiglia che appunto vi siete presentati qua di barberino del mugello giusto quindi è stato un piacere conoscervi e noi stasera adesso appunto ci facciamo una doccia ci sistemiamo perché ci spostiamo alle 8 nel parcheggio dentro che ovviamente avevamo pagato quindi lo sfruttiamo tra l'altro fortuna vuole che capitiamo di fianco a chiara e giulio quindi andremo lì da loro passeremo qualche qualche oretta con loro e niente ci vediamo dopo ragazzi siamo arrivati con i doni il pellegrinaggio abbiamo fatto abbiamo fatto il pellegrinaggio dall'acqua di 5 metri un bel tramonto la fiera del camper ragazzi e un bel po di birre in compagnia su questi ragazzuoli qua piccolo spoilerino su simba però stiamo davanti non facciamolo vedere all'interno beh ragazzi è stra 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 alto cioè proprio vabbè che ve lo dico a fa secondo giorno al salone del camper ce la siamo presa non con calma ma di più sono le undici e mezza passate anche perché non era proprio in programma di rientrare oggi volevano fare solo il punto ieri poi dopo oggi venire e venire verso casa però entriamo a fare un salto risalutiamo chiara e giulio salutiamo altri che ci hanno scritto che stanno arrivando qua e poi pensano sono un oretto due oretto quello che è quello che poi dopo ce ne andiamo anche perché ieri è stata una serata abbastanza leggerina più o meno il dopo il salone abbiamo bevuto un po abbiamo dormito appunto fino a tardi quindi va così eccoci qua ragazzi salutiamo queste due fantastiche persone non lo sto dicendo perché stai registrando ragazzi veramente due giorni fantastici chiara e giulio i vagamondi ovviamente ma tanto già li conoscete noi salutiamo loro che sono più bravissimi ragazzi due giorni fantastici tanto 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 abbiamo proprio trovato una famiglia una famiglia bellissima anche noi riciclo un po' ci ribecchiamo tra qualche tempo finite bene adesso il salone del camper riposatevi riprendete le energie e poi ci facciamo una bella mangiata un bel weekend da qualche parte più bevuta più bevuta che mangiata non c'è una senza l'altra e seguite Andre perché è bravissimo seguiteli 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 che ci saranno delle super sorprende tra l'altro non so quando uscirà questo video forse nei prossimi giorni li trovate sempre qua fino al 18 da camper tools salone di parma ovviamente ragazze vedremo al prossimo alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao